Combinare l'arte con la vita quotidiana, sollecitare ogni giorno la curiosità e il senso estetico dei passanti. È il progetto delle Stazioni d'Arte di Napoli, 180 opere di 90 autori contemporanei distribuite fra le stazioni della Linea 1 e della Linea 6 della Metro Cittadina, uno dei maggiori tesori di arte pubblica del mondo. Un ciclo di lezioni pubbliche curato dalle storiche dell'arte Maria Corbi e Luisa Lepre consente ai cittadini di esplorare con attenzione le opere incluse nelle stazioni della Metro, realizzate da artisti della scena internazionale, fra cui Michelangelo Pistoletto, Oliviero Toscani, Karim Rashid, William Kentridge, Sully Witt, Yanis Kunenlis. Questa stazione è stata progettata da Karim Rashid integralmente, sia per quanto riguarda il design architettonico, sia per l'installazione delle opere d'arte. È una stazione sicuramente molto gioiosa, dedicata ai temi della comunicazione, della velocità. Soltanto per l'anno scolastico 2013-2014 sono stati coinvolti oltre 2.000 alunni di istituti scolastici, non solo di Napoli, ma diciamo del territorio nazionale. Martedì 8 luglio il primo itinerario fra le stazioni di Garibaldi e Toledo. I prossimi appuntamenti, ogni martedì del mese alle 10.30, riguarderanno ancora la stazione Toledo, che la CNN ha definito la più bella d'Europa, l'imponente uscita di Monte Calvario e ancora le stazioni di Dante e Salvatore Rosa. Le lezioni, in italiano e in inglese, sono gratuite. Basta semplicemente prenotarsi entro il lunedì precedente all'indirizzo di posta elettronica infoarte-anm.it. Altre informazioni sul sito www.comune.napoli.it